ciao a tutti benvenuti in questo nuovo video oggi vi porto quello che sarà il tutorial omaggio per tutto il mese di marzo e aprile sul sito mymagic.it infatti acquistando qualsiasi cosa che sia un effetto che sia un mazzo di carta un libro quello che volete avrete diritto al tutorial del gioco che state per vedere allora abbiamo due mazzetti composti dalle stesse carte seme cuori ok dall'asso al 5 da una parte e anche di qua abbiamo le carte dall'asso al 5 di fuori questo gioco si può fare sia ad uno che a due spettatori vedete voi come come potete trovarvi meglio ok dopo aver mescolato un pochino i mazzetti chiedo allo spettatore o ai due spettatori di sceglierne uno ok supponiamo scegliono questo qua verde benissimo questo lo mettiamo qui in disparte ci servirà dopo ora distribuisco le carte in questo modo e dovranno sceglierne supponiamo di averne due entrambi dovranno scegliere due carte ok la carta che lasceranno sarà la mia oppure se abbiamo uno spettatore ne sceglierà quattro lasciandone una per me allora scelgo veramente tutto casualmente facciamo 1 2 3 4 5 allora il primo spettatore sceglie la carta numero 3 e poi sceglie la carta numero 3 ma che era già scelta quindi non può la carta numero 2 ok l'altro spettatore sceglie abbiamo 1 4 e 5 il 6 non va bene il 3 già stato scelto 6 niente il 5 rimane 1 e 4 2 niente 5 già scelto 4 ok quindi a me lasciano la carta numero 1 ora dobbiamo vedere chi ha vinto voi direte come come facciamo a saperlo cioè in cosa in cosa consiste il gioco allora prenderemo questo mazzetto io dirò la frase compiterò la frase a sillabe la carta vincente è questa qui e la carta su cui finirà l'ultima sillaba sarà appunto la carta vincente allora la carta vincente è questa qui il 5 la carta vincente è il 5 io vi ricordo una cosa che loro avevano più possibilità di me per vincere giusto perché entrambi hanno scelto due carte io invece ne ho una ma la cosa più interessante è che le carte le hanno scelte loro ok quindi questa mi è stata data di conseguenza non l'ho scelta io eppure se andiamo a vedere le carte del primo spettatore troviamo un 5 qui abbiamo un 3 qui abbiamo un asso vediamo l'altro spettatore che ha un 4 e un 2 quindi di conseguenza mi hanno lasciato il 5 e il mago è ovviamente il vincitore